Le dichiarazioni del nuovo CDA dell'area marina protetta del Cerrano non sono piaciute all'ex presidente Benigno Dorazio che, a pochi giorni dalla conferenza dei vertici, replica le accuse del nuovo consiglio di amministrazione tracciandolo di ignoranza e malignità. Il bilancio dell'area marina protetta non è assolutamente rosso, anzi, afferma Dorazio, grazie all'attività 2014 il bilancio attuale è più che soddisfacente, dato straordinario se si considera il mancato versamento di quanto dovuto dagli stessi soci, comuni di Pineto, Silvi e Regione Abruzzo. Secondo Dorazio, la Cerrano Trade ha chiuso il bilancio al 30 ottobre in attivo, circa 10.000 euro. Ad oggi si è in attesa del completamento di varie erogazioni. Tra queste, la più importante riguarda il progetto Blue Data, per il quale sono in corso le adeguate verifiche in sede amministrativa e giurisdizionale. Purtroppo, dichiara Dorazio, non è stato evidenziato come il progetto sia garantito sia in sede regionale che verso le banche da specifiche fidei uszioni. Nessuna vicenda inerente al progetto può dunque riverberarsi negativamente né per la Cerrano Trade né tantomeno per l'area marina protetta. Proprio grazie alle attività della Cerrano Trade e dunque anche al progetto Blue Data, recentemente il Ministero dell'Ambiente ha attribuito circa 80.000 euro all'area marina protetta in virtù delle straordinarie performance 2014 che l'hanno collocata ai vertici nazionali assoluti. Questi fondi, non ancora presenti in bilancio, costituiscono un tesoretto di cui la MP gode grazie all'opera dell'uomo solo al comando. L'ex presidente precisa infine di non aspettarsi ringraziamenti ma almeno un normale colloquio informativo come chiesto e rifiutato dall'attuale presidente pro tempore che al contrario si è lanciato in inventive contro Dorazio reo di aver difeso in sede giudiziaria le proprie idee propugnate da anni sulla necessità di riformare lo statuto prima di nominare un nuovo CDA.